Buongiorno a tutti, come va? Buongiorno a tutti. Quanti sei venuto? No, no, no. Eh, siamo con l'inizio. Sei qualsiasi? Più diversamente giovane? Eh, eh, c'è diverso. 21 anni, meno di 21 c'è nessuno, giusto? Sì, sì. Ciao, buongiorno. Buon lavoro a tutti. Buon lavoro a tutti. Ciao, buongiorno. Ciao, buongiorno. Buongiorno a tutti. Can. Grazie